Buona domenica e buon pranzo amiche e amici sportivi, benvenuti da Marco Ruta al campo sportivo tra i campanili di Bojasco dove andrà in scena lo spettacolo della Serie A femminile team nello scontro tra Sampdoria e Sassuolo. Palla dentro, c'è la deviazione, Tampieri, già battuto in mezzo dove arriva Rincon con lo scavetto, Lauria, scavetto di Sabasigir numero 13 che si inserisce alle spalle di Playdrup, resta in piedi ed esce bene la copertura di Oliviero per Tampieri. Spazza via, pallone intercettato, c'è Monterubiano a tu per tu, prova il tiro, deviazione corta e poi in due tempi, Amanda Tampieri fa su il pallone. Qui ne vediamo Valeria Monterubiano in prova a incrociare col destro. Solo Filchens adesso, in mezzo sul secondo palo, deviazione rete, ha segnato il Sassuolo. E Leonora Goltoni porta in vantaggio le nero-verdi. Rivediamo, in mezzo, stacca più in alto di tutte, alle spalle di Playdrup. L'attacco è la Samp che si dispone invece, tutto sul secondo palo. Pallone verso il centro, Lauria, con i pugni, poi Ragazzoli, ribadisce. Pallone che resta lì, la conclusione di Cecilia Re, perché Sassuolo è lì e non molla un centimetro. Gianni è servito adesso, apre il destro. Tampieri. Goldoni. Rivediamo l'assiste poi. Tampieri. In copertura. Però è sfortunata. Filchens recupera, si distende il Sassuolo. Goldoni. Prende possesso della sfera, entra in area di rigore, sfida Spinelli. Mette in mezzo, deviazione rete! Due a zero, Valeria, Monterupiano, al cinquantaseiesimo minuto. Doppio vantaggio Sassuolo. Goldoni. Gole assist oggi. Doppio passo. Che strega Spinelli. Poi in mezzo, il tapin vincente di testa della Samp. Gianni controlla male, allora ne approfitta Ragazzoli. Rincon. Guarda direttamente la porta. Poi Giordano, che può entrare in area di rigore, rientra sul destro. Va al cross, deviato da Pondini. Ma non è finita, perché c'è Oliviero che va al tiro, troppo centrale. Non c'ho sbagliato, ma è ancora il numero otto, che questa volta va in mezzo. C'è il tiro, c'è anche uno scontro. Si lamenta tutta la Samp per cercare di accorciare le distanze. Cuschieri in mezzo. Sul secondo palo. Stacco di testa, Lauria una volta, poi sulla linea! Il salvataggio di Gianni. a negare il gol della Samp. Rivediamo. Battistini. È un'occasione creata. E in questo momento arriva il fischio finale. Scacco matto del Sassuolo. In casa della Samp.